Mentre prova ad attaccare la squadra padrona di casa, il dribbling da parte di Rusnak che entra in area, cerca il destro, Joel Pereira, Lingard guarda la porta, palla per McTominay, il suo destro, palla che finisce di poco sul fondo, chiedono la devazione i giocatori dello United. Qui in avanti per Joe Plata, il velo, Beltran, Valcross, basso, palla deviata, scarico fuori Joe Plata, Joel Pereira in due tempi. Altra occasione per l'Alza Lake con Plata, Savarino può puntare Blinda, arriva come al solito sulla destra, Beltran avanza Savarino, tocco filtrante, Silva in area di rigore, il tocco è vincente, beffato Joel Pereira. L'esultanza del Rio Tinto Stadium, perché al ventitresimo minuto il Real Salt Lake è avanti contro il Manchester United. Un risultato assolutamente inaspettato. Reazione United, Lukaku sinistro, potente ma centrale, Krabber Lingard. Lukaku si gira, pensa al tiro, Lingard, filtrante, sinistro, il pareggio di Mkhitaryan al ventinovesimo minuto. Real Salt Lake 1, Manchester United 1, ha pareggiato Mkhitaryan. Tocco filtrante di Lingard per Mkhitaryan, bella palla per Lukaku, in area di rigore, Lukaku, Lukaku. Il primo gol con la maglia del Manchester United di Romelu Lukaku, arriva al trentottesimo. Real Salt Lake 1, Manchester United 2, ha segnato l'uomo da 75 milioni di sterline. Moltissimo Rashford da prendersi il pallone, si può andare in profondità da Martiali, in area di rigore, la progressione del francese. Il suo mancino termina alto, deviazione da Ucedo, pronto, l'uno contro uno. Parte il suo cross morbido, Smalling mette fuori, arriva da dietro il tentativo di Bessler, che calcia il controbalzo, ma non trova lo specchio della porta. Questo chiaramente va a influire sulla qualità della manovra. Valencia, intervento duro da Monito a posteriori, rosso per Valencia. Manchester United in dieci. Fa tutto da solo, ignorando. Vicino a lui Minter, palla in mezzo, raccolta ancora. Real Salt Lake in avanti, e soprattutto pericolosissimo con Mulholland, che non trova lo specchio della porta al 73esimo. allontana, spazzando Schuller, ancora Pereira. Altro cross sul secondo pallo, Smalling non trova lo specchio della porta. Era il pallone del 3-1. Michel, Fellaini, Martial, vuole cercare il gol. Martial sul destro, non trova la porta. Palla sul fondo, si rimane 2-1. Haber, vinta, un ripalo. Fernandes con il destro, Murato, Bailly, Mulholland. Palla buona, sovrapposizione, palla bassa! Romero sul tentativo! 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 Grazie a tutti.